ma dov'è che il mio latrono? ma dove dov'è avrà messa la mia maglia? ho un fondo! si? che cerchi? cerco la mia maglia! la tua maglia quale? la mia maglia rossa quella che porto sempre a giocare a ballone ah! l'aveva visto nell'armadio! eh sì ne ho bisogno sai! ma perché? ah! perché se tu sai che quella è la mia maglia preferita? perché mi porta fortuna! eh? porta fortuna! sì! ma cosa stai dicendo? certo! io la indosso sempre quando vado a giocare a ballone e vinco! voglio metterla da parte perché quando tornerò a giocare con i miei amici devo indossarla se voglio vincere! ma dai! poldo! ma cosa stai dicendo? mi fai ridere! lo sai che mi fai lo stesso ragionamento della lezione numero 6? l'hai letta? no! ancora no! allora te la raccolterò io! ma lo sai che cosa c'è scritto nel manuale? che il popolo australe pensava le cose come te? davvero? avevano una maglietta portafortuna? ma che voglio! loro pensavano che l'arca del pasto fosse una specie di portafortuna! ah sì? certo! e nonostante fossero disubbighenti quindi con il loro dio credevano che le battaglie la vincessero portando con sé l'arca del pasto! ah sì? ed hanno vinta? ma che scherzi? hanno fatto una battaglia con i bilisteri portando l'arca e hanno perso! ah! ecco! e allora? cosa è successo sai? non solo hanno perso una battaglia ma l'arca che è stata rubata! a ciclista! e così quell'arca lì è diventata di un altro popolo? sì! l'hanno presa in bilisteri e l'hanno messa sai dove? dove? hm! nel loro tempio di un dio strano di nome Dagon! ah! e allora? sarà cosa è successo? altro che fortuna! ah ah! cosa è successo? ma lì lì! dai! scendelo! lì domani sono andati nel tempio e hanno trovato la paga del dio Dago oh! spiaccimata per terra! e allora? sei tutta rotta? certo! ti è frantumata per terra! e non solo! i fedeschi sono stati presi da una brutta malattia! ah ah! altro che fortuna direi! certo! hanno fatto lo stesso tuo pensiero sai? hanno deciso di rimandarla indietro pensando che altro che aiuto da parte di Dio! erano stati castigati! ehi ciao! eh! questo è un Dio eh! così? dopo? hanno messo l'arca su un carro! drainato da due ducche! e l'hanno fatto andare via! e l'arca è arrivata dritto dritto a casa sua! sì! e dove? gli ebrei no? hanno fatto una gran festa! e ci credo! e riusciano a festeggiare una cosa così! sì! però Samuela il profeta gli ha detto che loro sbagliavano a pensare di essere dei disobbedienti e lo stesso vincere le battaglie non è solo perché avevano un'arca! ah sì! perché non era così l'idea! ma no! io voglio la nostra obbedienza Polto! dovresti saperlo! e lui guarda al nostro cuore e alle nostre azioni! e se ci comportiamo male? eh! possiamo fare tante cose ma non serviranno a nulla! anche andare in chiesa! sai! se noi andiamo in chiesa e ci comportiamo male! io non puoi aiutarci! no! ai ai! pensavo sì! ecco! non bisogna neanche avere queste idee che ci sono delle cose che che ci fanno vincere altre che ci fanno perdere come la tua maglietta per esempio! ah! ah sì! forse hai ragione! in effetti la mia maglietta non è che fosse poi così forta fortuna devo dire la verità! ma molte volte quando non ero molto bravo perché non avevo fatto gli allenamenti beh! mi ha capito da camare anche con la maglietta! eh già! e invece quando sono stato bravo ho fatto tutti gli allenamenti! beh! ho vinto anche con la maglietta di un altro colore! bravo Polo! hai capito allora quello che ci vuole dire la lezione? sì! sì sì! non esistono oggetti che portano fortuna! no! la nostra fortuna per così dire non dipende dagli oggetti! no! noi siamo i figli di Dio che non ci ama e vuole che impariamo a fare la sua volontà e quello ci farà vincitori! è vero! ti do ragione Maglietta! grazie! ciao! 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 ciao!